Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Signore e signori, ben ritrovati con i nostri video settimanali. Torniamo a parlare delle materie prime e in particolar modo torniamo a parlare del settore dei metalli. L'abbiamo già visto nei precedenti video, abbiamo parlato a volte dell'argento, del rame, ma anche in passato del platino, del palladio. Ritorneremo un pochettino su questi temi, ma in realtà quest'oggi vi voglio parlare di un argomento un poco differente, ovvero i cosiddetti metalli verdi o green metals, come vengono più comunemente chiamati. Sono sempre un po' collegati a quello di cui vi parlo spesso, un po' della nuova economia green, dell'economia verde, quindi sempre un po' tutti quelli legati alla transizione ecologica, alla decarbonizzazione, all'utilizzo nelle batterie, nelle auto elettriche e così via. Quindi cerchiamo di capire come investire anche in strumenti o meglio in materie prime, non dico innovative, ma sicuramente un po' più rare, un po' più difficili da trovare magari nel mercato classico dei future, ma andiamo un po' più nel dettaglio di questi argomenti. Tra queste materie prime ci sono tanti metalli, come può essere la grafene, il cobalto, piuttosto che il nickel, l'alluminio e via dicendo. E vengono, come dicevo prima, un po' tutti integrati in questa categoria dei metalli verdi. In particolar modo, noi siamo sempre più stati abituati a trattare i cosiddetti metalli un po' più classici, quelli che vengono anche trattati nel mercato dei future, quindi l'oro, l'argento, il rame, il palladio e il platino. Diciamo che anche questi metalli un po' più alternativi hanno magari un mercato future, ad esempio sul sito del CMI abbiamo i future sul cobalto, però onestamente diventano quasi impossibili da trattare perché al momento hanno dei volumi davvero molto bassi, però come abbiamo visto in passato è così anche per l'acqua, però via via se sono stati creati, inseriti, di certo non è per metterli e fargli fare una presenza, ma sicuramente perché è prevista una grossa crescita, un grosso utilizzo nei prossimi anni, altrimenti una mercato future, diciamo che non dico non avrebbe ragione d'essere, però perderebbe di efficacia e ricordiamoci che sono anche compagnie private che se creano degli strumenti è perché c'è un possibile tornaconto. Rimanendo su questo argomento, diciamo che questo gruppo, un po' di questi metalli speciali, viene anche raggruppato in un'altra maxi categoria che viene detta quella delle terre rare. In particolar modo dovete sapere che la maggior parte di questi metalli sono un po' continente asiatico, qualcosa in Australia e molti in Africa, ma vi parlo spesso di come la Cina è e vuole essere sempre di più il paese dominante per i prossimi anni della battaglia continua con gli Stati Uniti che è tutt'altro che risolta e proprio per questo sta diventando sempre più il leader globale per quel che riguarda appunto il mondo delle terre rare. Non a caso diciamo negli ultimi giorni è stato annunciato proprio da parte della Cina la creazione, qua viene definito un nuovo mammut, ma è una traduzione un po' maccheronica diciamo dall'inglese o meglio c'era scritto veramente mammut ma significa un po' un gigante ecco, un gigante globale delle terre rare. In questo modo la Cina potrà ancora meglio diciamo controllare ehm tutti questi ehm tutte queste commodities e farla un po' da padrone eh nella catena di approvvigionamento perché quello che volevo ricordare è che sì sicuramente eh questi materiali serviranno per la riconversione green su questo non c'è dubbio ma servono eh come dicevo anche nelle auto elettriche ma soprattutto anche un po' in tutte le nuove componentistiche tecnologiche quindi vuoi anche eh nella robotica eh nei cellulari nei computer vengono sempre più utilizzati questi materiali pertanto con la crescente richiesta di domanda tecnologica eh chiamiamola in questo modo si prevede che eh anche il desiderio il consumo di queste materie prime possa crescere enormemente eh nei prossimi tempi e nei prossimi anni. Eh è nato un po' come effetto Tesla nel senso che ehm si faceva subito sentire la domanda di questi beni appunto per la creazione di eh batterie elettriche eh e soprattutto per i circuiti elettrici viene utilizzato molto il nickel, l'alluminio, la manganese e anche il il rame. Eh però eh c'è anche una componente davvero molto importante eh di tutte eh queste terre rare e eh già eh Masca ha un po' tuonato su questa cosa ovvero che sta diventando davvero molto complicato approvvigionarsi in questo senso. Ancora di più nel duemila e ventuno quando un po' tutta la catena di approvvigionamento sulle materie prime è andata un po' a farsi benedire. Ecco che la contrazione dell'offerta con l'aumento della domanda sta scatenando anche un po' tutto questo meccanismo di ehm di inflazione. Eh pertanto eh assolutamente eh da tenere sotto controllo le future evoluzioni. Tanto per darvi anche dei numeri di utilizzo un po' di questi materiali considerate che in una Tesla Model S si stima ci siano sessantatré chili di litio ma anche cinquantaquattro chili di grafite e circa ventidue ventitré chili di cobalto in ogni macchina e qua stiamo parlando solo di Tesla ma eh ormai la conversione alle auto elettriche è qualcosa di incominciato giusto o sbagliato che sia ormai è una nuova forma di consumo che ci obbligheranno a fare tutte le case automobilistiche stanno passando anche alla conversione verso questo tipo di autovetture quindi eh immaginiamo che eh la crescita in questo senso sia sempre eh vista in rialzo. Ora eh a questo eh a questo proposito tra eh le materie prime un po' più scambiate eh che possono essere utili in questo senso abbiamo già parlato del rame e sicuramente dell'argento che tra l'altro negli ultimi giorni è tornato un po' su questi valori eh di minimo. Si può puntare secondo me anche su questi metalli ma dobbiamo avere una visione chiaramente differente. Sono materie prime eh molto più scambiate molto più eh stabili anche come andamento e quindi non ci si può aspettare dei ritmi di crescita forse nati. Sicuramente possono tornare a vedere dei prezzi più alti ma eh ci dobbiamo aspettare dei rialzi annuali sicuramente più contenuti rispetto ad altri strumenti eh molto più ehm molto più nuovi ecco eh in termini di investimento sui mercati. Eh a questo proposito eh guardiamo ad esempio l'ETF del litio quindi si possono cercare ETC e ETF che eh trattano direttamente quella eh materia prima. Il fatto è che quando si va sul grafene, il cobalto, il nickel eccetera eccetera non sempre c'è un ETF disponibile magari ci sono aziende che operano direttamente in quel settore o estraggono eh direttamente eh quel tipo di eh materiale eh e si può investire in quelle aziende ma a volte eh a fare l'investimento diretto su un singolo eh cavallo eh può diventare anche eh pericoloso. Ecco che può venirci in aiuto anche in questo senso un po' i vari ETF. Eh uno eh piuttosto conosciuto per quel che riguarda le terre rare è l'ETF REMX eh della Vanec. Eh lo troviamo anche qui sul nostro eh Alfa4Chart. Io eh e anche noi a livello diciamo di team abbiamo investito già da tempo in eh questo strumento ma eh volevo portarvi alla luce l'uscita di un nuovo strumento. infatti come vedete il grafico è un po' eh è un po' così passatemi questo termine perché è appena nato è nato proprio eh nel mese di eh novembre e eh riguarda proprio il il green metals e eh potrebbe essere diciamo l'investimento più diretto verso soprattutto il cobalto eh e altri strumenti di questo tipo eh va a fare qualcosa di ancora più eh mirato ma come sempre per capire dove come si investe io vi consiglio sempre di vedere un po' la composizione eh dei vari portafogli e qua vediamo che comunque anche eh nel precedente sulle terre rare il cobalto c'è abbiamo il litio eh eccetera diverse risorse che ehm rientrano un po' all'interno di ehm di questi strumenti eh pertanto eh ne tornerò a parlare sicuramente eh anche nella sessione di domani in cui vorrò presentare un po' a tutti i partecipanti del trading club eh quali possono essere nuove occasioni eh sulle materie prime eh materie prime tradizionali o materie prime eh più rare proprio perché l'inflazione non si è ancora eh placata anzi come eh vi aggiornavo un po' anche nei video precedenti eh finalmente è stato anche ehm come dire messo sul piatto che potrebbe non essere un'inflazione transitoria ma eh un po' più come dire strutturale e costante per i prossimi mesi a prescindere da quel che sarà questo può essere un investimento eh ottimo chiaramente di eh breve termine se soprattutto anche la catena di approvvigionamento l'inflazione continuano a ehm far traballare un po' i mercati ma può comunque rivelarsi un ottimo investimento di lungo o di lunghissimo termine proprio per tutte le implicazioni impattanti che ci sono nelle varie eh industrie eh del futuro eh pertanto questo è un primo spunto che vi volevo lasciare ma sicuramente sicuramente tornerò a parlare un po' eh di questi strumenti eh andando magari eh più nel dettaglio di ogni singolo eh metallo raro o metallo verde. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa occasione eh vorrete far parte un po' del nostro team per vedere sempre più nel dettaglio e capire quali sono i momenti migliori per investire in questi strumenti non esitate a contattarci eh con la fine di quest'anno ci sono tante novità eh per l'anno prossimo e eh come sempre eh qualche offerta più vantaggiosa con eh l'avvicinarsi del Natale pertanto eh contattateci e se vi è piaciuto questo contenuto perché no iscrivetevi anche al nostro canale YouTube. Eh grazie ancora ehm e eh a presto.